Il loro turno di lavoro iniziava molto presto con le prime luci dell'alba indossavano una tuta da lavoro quella della nettezza urbana comunale e insieme raggiungevano il centro di napole a bordo di uno scooter come strumenti di lavoro però non portavano le tradizionali scope paletta ma una piccola pistola a salve senza tappo rosso e non serviva per difendersi ma per rapinare di primo mattino le persone che escono per andare a lavorare segnalazioni e denunce di rapine commesse da due persone vestite come nette urbini ne sono arrivate molte i carabinieri del comando provinciale di napoli hanno così raccolto tutte le informazioni necessarie e pianificato servizi di osservazione e pedinamento disolgati per ore in più punti del centro città in auto e a piedi nella pigna secca nel cavone e nei quartieri spagnoli i militari della compagnia centro hanno individuato due persone sospette a bordo di un grosso scooter indossavano il casco ed entrambi vestivano la tradizionale tuta da lavoro della nettezza urbana di napoli completa di logo bande catarifrangenti e cappellino i carabinieri li hanno seguiti fino ad incrociarli in salita ponte corvo nel cuore del quartiere avvocata gli hanno tagliato la strada e intimato l'alta chi era la guida è fuggito mentre il passeggero angelo belladonna 41 anni del quartiere borgoloreto già noto alle forze dell'ordine è stato bloccato in tasca nascondeva una pistola piccola argentata senza tappo rosso e con l'impugnatura avvolta nel nastro isolante aveva con sé molto denaro circa 300 euro è stato così accompagnato in caserma ed è lì che i carabinieri hanno scoperto che poco prima un tassista napoletano era stato rapinato da due persone la cui descrizione combaciava perfettamente con i due finti netturbini gli erano stati portati via 60 euro denaro che avrebbe utilizzato per dare il resto ai clienti della giornata appena iniziata belladonna oltre al denaro alla pistola aveva con sé diversi cellulari e uno di questi hanno accettato i militari è risultato essere di proprietà di un barista del centro anche gli rapinato poco prima da due netturbini armati il 41 anni è così finito in manette per rapine aggravata e ricettazione il veicolo sul quale viaggiava insieme al complice infatti è risultato essere oggetto di un furto commesso il 19 marzo scorso continuano le indagini per l'identificazione del secondo rapinatore e per verificare se le decine di rapine commesse in questo periodo con il medesimo modus operandi siano attribuibili ai due spazzini